buongiorno a tutti oggi preparo una ricetta tipica calabrese che si fa per natale quindi faccio le zeppole e da noi si chiamano zeppole mi occorre un chilo di farina 15 grammi di lievito di birra fresco 10 grammi di sale 200 grammi di patata bollita e schiacciata 500 ml di acqua inizio la preparazione e sciolgo il lievito con l'acqua sciolti il lievito lo metto in mezzo alla farina aggiungo le patate metto tutta l'acqua e inizio ad impastare impasto con le mani a questo punto metto il sale l'impasto deve venire così molle per le zeppole ora lo lasciamo lievitare raddoppiato di volume lo lavoro in questo modo e faccio raddoppiare di nuovo ecco il risultato dopo la lievitazione messo olio nelle mani e inizio a friggere prendendo un po di impasto alla volta ecco qua così ecco qua così facciamo dorare da entrambi i lati una volta dorate le tolgo e le metto in carta assorbente ecco qua così ecco qua Grazie a tutti. E le facciamo tutte così, fino all'esaurimento l'impasto. Sono pronti da gustare. Eccoli asciutti dentro e croccanti fuori. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.